L'Avellino lavora ma nemmeno le altre stanno a guardare. A quanto pare il Bari del direttore sportivo Ciro Polito ha intenzione di riportare in Italia un attaccante di grande esperienza, Federico Piovaccari. Per il classe 84 sarebbe un ritorno alle origini. Agli inizi della carriera infatti ha indossato le maglie di vittoria a San Marino. Prima delle importanti esperienze con Cittadella, Sambadoria, Staua, Bucarest e Cordoba, il Taranto ne ha promosso in Cicerca due elementi di grande spessore come il difensore ex casertana Michele Murlo con un passato a Juve Stabia Vicenza e lo scorso anno alla Carrarese e Giuseppe Torromino, reduce dall'esperienza alla Ternana ma che ha giocato anche con Lecce, Crotone e Grosseto, giusto per citare alcune squadre. A Monopoli si attende la risoluzione di mister Giuseppe Scienza destinato alla Provercelli. Per sostituirlo si parla dell'ex Fiorentina Emiliano Bigica e di Giuseppe Raffaele, reduce dall'esperienza a Catania e in precedenza sulla panchina del Potenza dove ha fatto molto bene. Il campo basso, altra formazione neopromossa invece, è propenso a riconfermare il tecnico Mirko Cudini, l'ex difensore bianco-verde e il principale artefice del ritorno dei molisani in Serie C.